Buongiorno ragazzi, cominciamo oggi con la correzione degli esercizi di geometria che vi erano stati assegnati lunedì scorso. Cominciamo dall'esempio svolto di pagina 850. Questo ci dice di considerare un angolo RS di vertice O, un punto A di R e un punto B di S in modo che sia OA congruente ad OB e poi un punto C interno all'angolo dato e tale che BC sia congruente ad AC. Dimostriamo che la semiretta di origine O e passante per C è bisettrice di RS. Allora, per ipotesi A appartiene ad R e B appartiene ad S. OA è congruente ad OB e sul disegno del testo abbiamo già la segnalazione di questa congruenza, BC congruente ad AC e allo stesso modo abbiamo la segnalazione della congruenza, C punto interno a RS. Tesi, BOC, congruente ad C o A. Quindi cominciamo considerando i triangoli BOC e C o A. Allora, e se hanno per cominciare OB congruente ad OA? Per ipotesi. BC congruente a CA sempre per ipotesi. poi abbiamo OC in comune. Di conseguenza i due triangoli sono congruenti per il terzo criterio di congruenza. Ma se sono congruenti hanno tutti gli elementi congruenti e quindi di conseguenza avrò che BOC è congruente a COA perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. È dato un triangolo isoscele ABC di vertice C. Se hai il punto di intersezione delle bisettrici degli angoli alla base dimostra che il triangolo ABE è isoscele. Allora proviamo a rappresentarlo con GeoGebra. Allora, cominciamo con il rappresentarci il segmento AB, rappresentiamo poi l'asse di questo segmento e sull'asse di questo segmento mettiamo un punto C. Abbiamo quindi rappresentato il nostro triangolo ABC di vertice C. Ci diranno di vertice C, di base AB, è indifferente. Questo qua è un triangolo isoscele e variando il punto C quello che otteniamo è sempre comunque un triangolo isoscele. A questo punto tracciamo le bisettrici degli angoli alla base che si intersecano nel punto E. Abbiamo riportato il disegno che abbiamo realizzato con GeoGebra e non solo. Abbiamo indicato con D ed F le intersezioni delle bisettrici rispettivamente BE ed AE con i lati obliqui. Questo simbolo di congruenza che ho indicato con i tre trattini si riferisce ovviamente ai lati obliqui del triangolo. Cominciamo quindi a riportare le ipotesi e la tesi. Allora, si tratta di un triangolo isoscele, quindi AC è congruente ABC. Poi E è il punto di intersezioni delle bisettrici degli angoli e la base. Essendo bisettrice, allora divide a metà l'angolo a cui si riferisce e quindi avremo questi simboli che ci rappresentano la congruenza e che ora traduciamo in relazioni. Quindi abbiamo che l'angolo CAE è congruente all'angolo EAB e l'angolo ABE è congruente all'angolo EBF. Devo dimostrare che il triangolo ABE è isoscele. Allora, comincio considerando gli angoli alla base del triangolo isoscele. Io so che l'angolo CAB è congruente all'angolo ABC perché angoli è la base di un triangolo isoscele. Se questi due angoli sono congruenti, saranno congruenti anche le loro metà. Ma essendo A e B a questo punto un triangolo con due angoli congruenti, allora si tratta di un triangolo isoscele. Considera un triangolo isoscele ABC di base AB. Traccia le bisettrici di due angoli esterni di vertice A e B che appartengono al semipiano generato da AB che non contiene C. Siano O il punto di intersezione di tali bisettrici. N il punto di intersezione delle rette AC e BO e T quello di intersezione delle rette CB e AO. E poi abbiamo le due tesi. Procediamo facendo il disegno sempre con GeoGebra. Allora, consideriamo il nostro triangolo isoscele. A questo punto prolunghiamo i lati obliqui dalla parte però di A e di B perché ci dice che gli angoli esterni che dobbiamo considerare non sono quelli nel semipiano che contiene invece C. Quindi questi qua sono i nostri due angoli esterni. Allora, mettiamo in realtà dei punti su questi lati in modo da poter rappresentare le bisettrici. Possiamo quindi determinare questa intersezione che indichiamo con O. Ci dice, facciamo bene attenzione, che in realtà dobbiamo considerare le nostre intersezioni tra le bisettrici e i prolungamenti dei lati del triangolo. Come possiamo vedere queste intersezioni sono un po' lontane. Allora, possiamo in realtà cambiare la situazione modificando il nostro angolo, il nostro vertice C e in questo modo vediamo che le nostre intersezioni cambiano. Le chiamiamo come indicato dal testo e quindi questa sarà N e questa invece sarà T. Possiamo a questo punto riportare il nostro disegno nella nostra LIM. Quindi questo è il nostro disegno che abbiamo realizzato con GeoGebra. Procediamo adesso ad elencare le ipotesi e le due tesi che dobbiamo dimostrare. Quindi, ipotesi abbiamo che si tratta di un triangolo isoscele di base AB, in questo caso ci viene dato. Traccia le bisettrici dei due angoli esterni di vertici A e B che appartengono al semipiano. Allora, innanzitutto io comincerò scrivendo che N a O è congruente a O a B e che AB è congruente a O B e T. Queste qua quindi sono le bisettrici e ci dice che O è il punto di intersezione di queste bisettrici. Allora, di conseguenza avremo che AT intersecato BN ci dà appunto O. Ci dice poi che N è il punto di intersezione delle rette AC e BO. Quindi AC intersecato BO invece ci darà N e BC intersecato AO ci darà T. Allora, in realtà queste cose, se le avete scritte in questo modo, va bene lo stesso, cioè se avete scritto che B, O, N, A, O, T, C, A, N e C, B, T sono allineati, va bene lo stesso. A questo punto le nostre tesi. La prima dice che AO è congruente ad OB e la seconda è congruente ad OT. A questo punto per procedere non ci serve più il testo del problema, ci bastano queste affermazioni. Allora, procediamo con la nostra dimostrazione per quanto riguarda la prima tesi da dimostrare. Noi infatti sappiamo che essendo il triangolo isoscele, allora avremo che i due angoli alla base sono congruenti. Quindi... E di conseguenza abbiamo quindi che B, A, N è congruente ad ABT perché è supplementare trattandosi di angoli esterni, di angoli congruenti. E di conseguenza avremo che O, AB e ABO sono congruenti perché metà di angoli congruenti. e quindi di conseguenza il triangolo A, O, B avendo due angoli congruenti è un triangolo isoscele e di conseguenza A, O è congruente ad OB. Per la seconda dimostrazione invece come procediamo? Per quanto riguarda la seconda parte, cioè la dimostrazione che O, N è congruente a OT, devo considerare i triangoli A, O, N e B, O, T che vado ad evidenziare. Essi hanno, allora, per cominciare, A, O congruente a BO e l'abbiamo ritrovato qua. Quindi in realtà è frutto della precedente dimostrazione. seconda cosa, abbiamo che O, A, N, cioè l'angolo O, A, N, congruente all'angolo O, B, T perché metà di angoli congruenti, che è la stessa cosa che abbiamo usato per le altre metà. infine abbiamo che gli angoli A, O, N e B, O, N, B, O, T sono congruenti perché opposti al vertice. Quindi ci troviamo nella situazione in cui i due triangoli hanno un lato e i due angoli adiacenti congruenti. Quindi i due triangoli sono congruenti per il secondo criterio di congruenza. E di conseguenza avremo che O, N è congruente ad O, T perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. Su uno dei due lati di un angolo dato di vertice O segna due punti A e C. Quindi facciamo prima un disegno così di brutta e poi procederemo usando GeoGebra in modo che resti più preciso. Quindi trovo A e C a caso e sul secondo lato, quindi se questo è il lato R e questo è il lato S, vado a prendere O, B in maniera tale che sia congruente ad O, A e O, D in maniera tale che, questo me lo indico così, tutto questo lato è in realtà congruente a tutto questo lato. Per essere sicuro che O, B sia congruente ad O, A, traccio la circonferenza di centro O che passa per A e su di essa vado quindi a prendere un punto B e traccerò quindi la semiretta che ha origine in O e passa per B. A questo punto prendo un punto a caso C sulla semiretta R e sempre per essere sicura di individuare un segmento che sia congruente a quello dato, traccio la circonferenza di centro O passante per C e vado quindi a determinare D. Adesso devo tracciare i segmenti di A e BC e a questo punto ho tutto quello che serve per procedere. Allora possiamo a questo punto riportare le nostre ipotesi. ROS è il nostro angolo di partenza. Abbiamo che A e C appartengono alla semiretta R mentre B e D appartengono alla semiretta S. Poi abbiamo che OA è congruente ad OB e che OC è congruente a OD. Usando anche colori diversi possiamo usare gli stessi simboli. E poi AD intersecato BC ci dà il punto E. Allora a questo punto abbiamo le nostre tesi da riportare. Dunque i triangoli OAD e OBC sono congruenti. AD è congruente a BC e l'angolo CAE è congruente all'angolo EBD. I lati EA ed EB sono congruenti, CE ed ED sono congruenti. E infine la congiungente O con E che rappresenteremo poi è la bisettrice dell'angolo dato A o B, quindi B o E sarà congruente a E o C. Possiamo procedere con la dimostrazione. Cominciamo con la tesi numero 1 e consideriamo gli angoli, gli triangoli che ci dà appunto di cui dobbiamo dimostrare la congruenza, OAD e OBC che evidenziamo. Se preferite potete anche rappresentarvi i due triangoli separati in un altro disegno. Ci sono alcuni esercizi per i quali un disegno non basta e questo potrebbe essere uno di quei casi. Allora, per cominciare possiamo dire che hanno OA congruente ad OB per ipotesi e poi hanno OC congruente a OD per ipotesi e hanno l'angolo B o A in comune. Quindi siamo nel caso di due triangoli che hanno rispettivamente congruenti due lati e l'angolo fresti compreso, quindi sono congruenti per il primo criterio. E la prima tesi è dimostrata. Per quanto riguarda la seconda tesi, ci chiede di dimostrare che AD è congruente a BC e che CAE è congruente ad EBD. Allora, siccome questi due triangoli sono congruenti, hanno tutti gli elementi corrispondenti congruenti. Quindi avranno quest'angolo congruente a quest'angolo, avranno quest'angolo congruente a quest'angolo e poi avranno, allora mi rendo conto adesso che questo disegno potrebbe essere fuorviante perché DA sembra perpendicolare ad OC. Effettivamente disegni del genere sarebbe meglio non farne, quindi potremmo in realtà modificare il nostro disegno. Allora, adesso che abbiamo rifatto il disegno possiamo procedere. Allora, dicevamo che siccome i triangoli OAD o BC sono in realtà congruenti, allora hanno congruenti anche tutti gli elementi corrispondenti e quindi di conseguenza anche questo lato sarà congruente a questo lato, anzi dobbiamo bisogno di un altro simbolo altrimenti ci confondiamo. Quindi abbiamo i nostri tre lati congruenti, due lo erano già per ipotesi e due angoli congruenti, uno lo era già per ipotesi. Fra questi angoli e questi lati riconosciamo quelli richiesti dalla della nostra tesi 2. Quindi AD è congruente a BC perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. E allo stesso modo CAE e EBD sfrutteranno la dimostrazione precedente perché abbiamo che OAD e CBO sono congruenti perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti, ma gli angoli richiesti CAE e DBE sono in realtà supplementari di questi due angoli e quindi a loro volta congruenti. E quindi anche il secondo punto è dimostrato. Terzo punto, dobbiamo dimostrare che EA è congruente ad EB e CE è congruente a ED. Consideriamo quindi triangoli ACE e BDE. Potrebbe essere utile a questo punto procedere con un nuovo disegno. Allora prima di cancellare il nostro disegno riportiamo le cose che ci possono interessare perché noi adesso andiamo a considerare i triangoli BDE e ACE e dalla dimostrazione precedente sappiamo che questi due angoli sono congruenti e avevamo anche dimostrato che anche questi due angoli anche questi due angoli sono congruenti. Di conseguenza la dimostrazione della nostra tesi 3 sarà molto rapida. quindi hanno l'angolo EDC congruente EDB congruente all'angolo ECA per precedente dimostrazione. poi abbiamo che l'angolo DBE è congruente all'angolo EAC sempre per precedente dimostrazione. A questo punto possiamo dire che BD è congruente a AC perché noi sapevamo per ipotesi che OC era congruente a OD. Sempre per ipotesi sapevamo che OB era congruente a OA e BD e AC non sono altro che la differenza fra OC e OA o D e OB e quindi siccome differenza di segmenti congruenti sono a loro volta congruenti. Di conseguenza abbiamo che i nostri due triangoli sono congruenti per il secondo criterio di congruenza visto che hanno congruenti due angoli e il lato fra essi compreso. Di conseguenza saranno congruenti tutti gli elementi di questi due triangoli corrispondenti e quindi EA risulta essere congruente ad EB e sono questi due perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti e allo stesso modo CE risulta essere congruente a ED perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. Possiamo quindi procedere con l'ultima tesi. Quindi dobbiamo dimostrare che tracciando il segmento OE questo risulterà essere bisettrice dell'angolo AOB. Allora considero a questo punto i triangoli B OE e EOA. Allora hanno innanzitutto OA congruente ad OB per ipotesi. Poi abbiamo che BE congruente ad EA per precedente dimostrazione. Ed inoltre abbiamo che il lato OE è in comune. Di conseguenza i due triangoli sono congruenti per il terzo criterio di congruenza ed essendo congruenti hanno tutti gli elementi congruenti, gli elementi corrispondenti congruenti. In particolare BOE è congruente a EOA perché elementi corrispondenti in triangoli congruenti. Per i due triangoli ABC e A'B'C' si sa che AB è congruente ad A'B' BC è congruente a B'C' che è quindi la nostra ipotesi che manca e che le mediane relative ai lati BC e B'C' sono congruenti. Allora prima di poter scrivere che le due mediane AM ed A'M' sono congruenti devo prima scrivere che si tratta di mediane e quindi scriverò che M appartiene al segmento BC e che BM è congruente ad MC. Lo stesso sul secondo triangolo. Dimostrazione. Consideriamo i triangoli ABM e A'B'B'M' hanno AB congruente ad A'B' per ipotesi, MB congruente ad M'B' perché metà di segmenti congruenti. AM congruente ad A'M' per ipotesi. Di conseguenza il triangolo ABM congruente al triangolo A'B'M' avendo tre lati rispettivamente congruenti per il terzo criterio e di conseguenza B è congruente a B' perché angoli corrispondenti in triangoli congruenti. Consideriamo ora i triangoli ABC e A'B'C' cioè i nostri triangoli di cui dobbiamo dimostrare la congruenza. Essi hanno AB congruente ad A'B' per ipotesi, B congruente a B' per la dimostrazione precedente e a questo punto avremo che BC è congruente a B'C' per ipotesi. Di conseguenza i due triangoli sono congruenti avendo due lati e l'angolo fra essi compreso per il secondo criterio e quindi ho dimostrato il nostro esercizio. Per oggi è tutto, per la prossima volta vi invito a riguardare con grande attenzione queste dimostrazioni e se vi hanno creato problemi svolgendole autonomamente, provare a risvolgerle di nuovo dopo aver seguito tutta la spiegazione e ovviamente studiare tutta la parte di teoria che abbiamo fatto fino ad ora in modo che la prossima volta poi possiamo proseguire. Buon lavoro a tutti!